Cominciano in questi giorni a entrare in vigore le nuove norme sul reddito di cittadinanza in forza delle quali una serie di percettori del reddito non avranno più il sussidio. Ora, questo è un tema sul quale ho letto e sentito molte polemiche e moltissime falsità e credo che sia utile fare un po' di chiarezza. Primo, non perdono il reddito di cittadinanza i disabili, come pure è stato scritto. Non perdono il reddito di cittadinanza gli over 60, come pure è stato detto. Non perde il reddito di cittadinanza chi ha figli minori a carico, come è stato detto e scritto. Non perde il reddito neanche chi ha condizioni di particolare fragilità. Tutte queste persone, a differenza di quello che strumentalmente è stato detto, continuano a percepire il reddito fino alla fine dell'anno e poi passeranno all'assegno di inclusione, la nuova misura di sostegno che il Governo ha varato e con la quale non perdono nulla. Chi smette di percepire il reddito? Secondo, smettono di percepire il reddito i percettori tra i 18 e i 59 anni che non siano disabili, non abbiano figli minori a carico, ovvero le persone che sono perfettamente in grado di lavorare. Secondo, la revoca del reddito di cittadinanza è stato detto, è avvenuta da un giorno all'altro, è stato un fulmine a ciel sereno. Ma questo è falso, perché quello che noi abbiamo fatto era non solo scritto nel programma di Governo del centrodestra, ma era inserito nella legge di bilancio che è stata varata lo scorso dicembre e tutti erano a conoscenza del fatto che in forza della legge di bilancio approvata a dicembre, nel 2023 il reddito per le persone di cui sopra sarebbe cessato dopo sette mesi. E allora si è detto, le persone che perdono il reddito perché sono in grado di lavorare vengono lasciate da sole, ma anche questo è falso, perché per queste persone parte il primo di settembre il nuovo supporto per la formazione e il lavoro, per aiutarle a essere inserite nel mercato del lavoro.